Musica Bersane ed Agrigento per sostenere il candidato a sindaco Mariella Lobello Sciacca, ragazzi ritrovano una mandibola sulla spiaggia Lido, forse di un immigrato annegato Castrofilippo tenta rapina in un appartamento, finisce nel sangue Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Agrigento Tg24 Apriamo con la politica, come avete sentito dai titoli lunedì sera arrivato da Agrigento il leader nazionale del PD Bersani a sostenere il candidato a sindaco Mariella Lobello C'è il servizio Lobello è una forza della natura, è una campagna elettorale difficile perché i cittadini hanno tanti problemi e le tasche è piena di rabbia e di sfiducia Il punto è che non dovevamo arrivare a questo punto, né in Italia né ad Agrigento Queste le parole di Pierluigi Bersani nel discorso di lunedì sera a Porta di Ponte Il leader del PD, arrivato ad Agrigento per sostenere Mariella Lobello fa anche riferimento a finanziamenti dei partiti forbice sociale, misure di crescita, riforme delle pensioni e nuova legge elettorale Non si è trattenuto nello spendere qualche parola per il suo antagonista Silvio Berlusconi strappando un sorriso al suo pubblico Applausi quando fa riferimento a Beppe Grillo per le recenti dichiarazioni sulla mafia Mariella Lobello, intervenuta prima di Bersani, punta all'offensiva non risparmiando il suo nemico in questa campagna elettorale il candidato a sindaco Salvatore Pennica A questo nuovo gioco di società che si chiama Epolis noi mettiamo avanti questa piazza l'obiettivo è di raggiungere con questa condizione il comune e buttare fuori il potere dal palazzo Infine interviene Giuseppe Arnone che entra in scena presentando il suo nuovo manifesto che ha fatto sfilare durante il comizio E passiamo alla cronaca Ressi di ossa, probabilmente umane sono state ritrovate sulla spiaggia Lido a Sciacca Si tratta di una mandibola che è stata rinvenuta da alcuni ragazzi che giocavano sull'arenile Sentiamo il servizio di Gabriello Modei Ressi di un osso probabilmente umano sono stati ritrovati sulla spiaggia dell'Ido di Sciacca Si tratta di una mandibola che è stata rinvenuta da alcuni ragazzi che giocavano sull'arenile Sul luogo sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia che hanno sequestrato il arresto osseo Da una prima analisi effettuata dal medico legale si tratterebbe della mandibola di un giovane, presumibilmente di un immigrante annegato in mare durante una traversata Si attendono sviluppi sulla vicenda Tentativo di rapina finita nel sangue a Castro Filippo Un rapinatore è entrato all'interno dell'abitazione di un bracciante agricolo ma scoperto ha esploso un colpo di pistola che ha ferito l'agricoltore ad una mano ed è fuggito L'uomo è stato trasportato all'ospedale Barone Lombardo di Canigattì Allertati i carabinieri della stazione di Castro Filippo sono intervenuti tempestivamente dove i primi accertamenti hanno rinvenuto e sequestrato il bossolo calibro 22 esploso dal malvivente Continuiamo con la cronaca I carabinieri della tenenza di Favara hanno avviato le indagini su un incendio scoppiato questa mattina all'alba in via Capitano Basile Le fiamme hanno distrutto una seata altea di proprietà dell'associazione di volontariato I nostri due angeli e danneggiato una lancia Y di proprietà di AN 33 anni appartenente alla stessa associazione che era parcheggiata accanto all'auto distrutta I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo I militari hanno effettuato un primo sopralluogo ma non sono state trovate tracce di dolo E ancora cronaca un incidente stradale ieri sera lungo la via panoramica dei Templi ad Agrigento protagonista un agrigentino che per cause ancora da accertare ha perso il controllo del suo scooter uno Scarabeo Aprilia finendo la sua corsa sull'asfalto Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Villaseta che hanno effettuato i rilievi e gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale a bordo di un'ambulanza Inaugurata a Raffadali la sede della protezione civile comunale attualmente co-gestita dall'associazione di volontariato Giubbe d'Italia con la quale il comune ha segnato un protocollo di intesa I locali adeguatamente ristrutturati messi a disposizione dal comune di Raffadali sono quelli dell'ex macello comunale di Largo e Raclea Alla cerimonia di consegna della nuova sede hanno preso parte i responsabili della protezione civile di Agrigento Maurizio Costa il presidente della Nazione delle Giubbe d'Italia Vincenzo Di Giacomo l'arciprete di Raffadali Don Giuseppe Livatino e sindaco Silvio Cuffaro E passiamo allo sport il nigeriano Jimon Sahed ha vinto la classifica dei marcatori del campionato di eccellenza il giocatore in forza al Mazzara ha staccato di tre gollo il forte centravanti del Campofranco Messina autore di 16 reti Galluzzo de Ribera al terzo posto con 14 gol realizzati Per chiudere una notizia di calcio a 7 l'Atena ha conquistato il titolo di campione regionale della categoria under 12 di calcio a 7 in una finale tutta agrigentina contro lo Sporting Club AG i ragazzi del mister Giovanni Sorce hanno vinto ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 2 a 2 le due compagini agrigentine si erano qualificate agevolmente vincendo i rispettivi gironi a punteggio pieno E' tutta per questa edizione di Agrigento TG24 grazie per averci seguito appuntamento e prossimi aggiornamenti Grazie a tutti